Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La seconda commissione ha iniziato l'esame dell'articolato del disegno di legge regionale sulla ricostruzione post-sisma 2016. Vediamo. In seconda commissione ha preso il via l'esame dell'articolato del disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta sulla ricostruzione post-sisma 2016. Alla presenza di dirigenti e tecnici dell'assessorato sono stati esaminati e votati i primi 16 articoli nei quali sono state prese in considerazione, in alcuni casi accolte, le proposte emerse nel corso di audizioni con i soggetti interessati. Tra le altre cose, su indicazione del presidente Brega e con la condivisione degli altri commissari, è stata accolta la proposta del comune di Spoleto che chiedeva di ricomprendere il territorio nel masterplan per lo sviluppo della Valnerina. La questione, insieme ad altre proposte di modifica al test originario, relativamente ai primi 16 articoli, sarà ricompresa in un unico maxi emendamento firmato dal presidente Brega, che verrà posto al voto della commissione ad inizio della prossima riunione, dove proseguirà l'analisi dell'articolato. Il percorso tracciato dalla commissione dovrebbe portare al voto definitivo sull'atto nella prima metà del prossimo mese di ottobre. Illustrato in prima commissione il disegno di legge della Giunta sulla gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali. Davide Mariotti Bianchi La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per l'illustrazione da parte dell'assessore Antonio Bartolini del disegno di legge proposto dalla Giunta per la gestione e la valorizzazione dei beni immobili regionali. Illustrando la proposta, l'assessore Bartolini ha parlato di una virata non solo nelle forme di gestione e valorizzazione dei beni, ma anche nella filosofia che sta dietro il patrimonio immobiliare pubblico. Si tratta di un patrimonio storico che questa legge vuole valorizzare in modo nuovo, puntando a custodirlo e tramandarlo alle generazioni future e non più solo a dismetterlo. Non si punta ad una gestione pubblica del patrimonio immobiliare, ma a rivedere la gestione in un'ottica di valorizzazione diversa dal passato, usando altri strumenti di gestione come la concessione ai privati che possono fare investimenti. La legge attuale, ha ricordato Bartolini, è datata a più di 30 anni ed è stata gestita con l'obiettivo di fare cassa. Una filosofia che era prevalente prima della crisi del 2008, ma che oggi è fallimentare perché non c'è più un mercato. Il patrimonio regionale ha una storia significativa che è corretto riconoscere, ma non vendendo e non gestendo questo patrimonio si depaupera. Lo scopo di questa legge, ha detto ancora Bartolini, è quello di favorire forme di gestione e di valorizzazione dei beni per mantenere il loro valore, attraverso usi pubblici coinvolgendo l'associazionismo, il mondo del volontariato, puntando alle gestioni comunitarie. Il patrimonio della regione Umbria ha un valore di quasi 500 milioni di euro. La sua consistenza è di circa 27 mila euro di territorio agricolo e boschivo, 3 mila ettari di aziende agrarie, 200 fabbricati rurali in aree marginali, 145 caselli ferroviari, 96 case cantoniere e fabbricati ed aree edificabili in zone urbane. Parere favorevole della terza commissione sul regolamento per le palestre della salute e i centri di attività motoria. Paolo Giovagnoni. Nonostante perplessità riguardanti le funzioni previste nelle palestre della salute se entrano nel campo delle aziende sanitarie e poi sulla vigilanza circa le attività esercitate all'interno dei centri di attività motoria e quindi sull'individuazione del confine tra l'ambito di applicazione della disciplina regionale e quello dell'ordinamento sportivo del CONI, la commissione presieduta da Tilio Solinas ha dato parere favorevole a maggioranza alla proposta di regolamento collegato alla legge per la promozione delle attività sportive e motorie, la legge 19. favorevole il presidente Solinas, Casciari e Guasticchi del Partito Democratico, Rometti, socialisti e riformisti. Hanno votato no De Vincenzi, Umbria Next, Carbonari, Movimento 5 Stelle e Squarta Fratelli d'Italia. Audizione dell'assessore alla cultura Fernanda Cecchini in terza commissione sulla manifestazione L'Umbria che spacca il servizio. Su richiesta del consigliere Giacomo Leonelli del Partito Democratico, la terza commissione consigliare ha convocato l'assessore regionale alla cultura Fernanda Cecchini e gli animatori della manifestazione L'Umbria che spacca per discutere ipotesi di ulteriore valorizzazione dell'evento realizzato con la passione di numerosi volontari che in tre giorni di luglio attira migliaia di giovani sul territorio e che sui social ha raggiunto un milione di persone tra Instagram, Twitter e Facebook, come si evince dai dati che sono stati presentati ai commissari nella seduta della commissione da Aimone Romizzi, organizzatore dell'evento e membro della band perugina Fast Animals and Slow Kid, il cui successo ha da tempo varcato i confini regionali e nazionali. L'Umbria che spacca non è solo concerti con musicisti di fama internazionale ma propone la valorizzazione delle eccellenze della regione, ha spiegato Romizzi, e consente alle band di ragazzi Umbri di usufruire di una visibilità e di una professionalità che non troverebbero negli altri eventi a base di musica, in una regione dove il jazz e la musica classica sono sostenuti da rassegne ormai di grande prestigio, a differenza del rock che non è passato di moda a giudicare dai numeri. Leonelli ha detto che il tema in discussione non è l'erogazione finanziaria della regione ma quello di sistematizzare la manifestazione e farla divenire permanente per evitare di disperdere un patrimonio culturale costruito con la sola passione e il volontariato e quindi ha lanciato l'idea di una fondazione di partecipazione tra regione e comuni Umbri in aggiunta alle risorse che la regione destina agli eventi culturali. La prima commissione ha provato, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, le modifiche al regolamento interno di contabilità dell'Assemblea Legislativa proposte dall'Ufficio di Presidenza di Palazzo Cesaroni. Si tratta di cambiamenti dei termini del procedimento di formazione del bilancio di previsione e integrazioni con alcune delle norme regolamentari per la gestione del fondo economale dei beni mobili e del magazzino dell'Assemblea. Il consigliere regionale Andrea Smacchi del Partito Democratico annuncia la presentazione di una interrogazione sul nuovo modello organizzativo della rete regionale dei servizi di diagnostica di laboratorio. Per Smacchi la delibera della Giunta suscita più di una perplessità perché dice, declassa, il laboratorio dell'ospedale di Gubbio Gualdotadino, sede di DEA, che in quanto tale necessita di un laboratorio operante H24. Sull'argomento, interrogazione annunciata anche dal consigliere Roberto Morroni di Forza Italia, secondo il quale la decisione della Giunta, che porterà ad un depotenziamento dello stesso nosocomio, risulta incomprensibile e inaccettabile. Il consigliere regionale Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle fa sapere di aver depositato una proposta di legge a firma congiunta con il consigliere Liberati per sostenere mediante incentivi le attività commerciali che distribuiscono prodotti sfusi o alla spina. Per Carbonari il piano regionale rifiuti già prevede tale obiettivo, pertanto dice e ci auguriamo che questa proposta verrà presto approvata e non rimanga nel cassetto come tante altre. Carla Casciari del Partito Democratico annuncia la presentazione di una interrogazione alla Giunta di Palazzo Donini in merito ai percorsi ciclabili dell'Umbria. Casciari, ricordando che questa è la settimana europea della mobilità sostenibile, chiede chiarimenti all'esecutivo in merito alle connessioni con la ciclopista del Sole e la ciclovia Romea e domanda come si intende supportare l'inserimento delle ciclovie regionali nell'ambito della rete Bicitalia, anche attraverso le proposte da presentarsi nell'ambito del piano regionale della mobilità ciclistica. Claudio Ricci, del gruppo misto Ricci, presidente Italia Civica, interviene in merito alla passerella Telfer di Terni, evidenziando che si tratta di un elemento di archeologia industriale da valorizzare, evitando smontaggi, come previsto dalla legge regionale del 2013. Sull'argomento Ricci annuncia la presentazione di una interrogazione alla giunta di Palazzo Donini. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.